Musica Lunedì 11 dicembre, una buona giornata e un buon inizio settimana dalla redazione di TRMH24. Ben ritrovati con la nostra edicola, lo spazio che dedichiamo alla lettura dei quotidiani. Come di consueto iniziamo dando uno sguardo alle notizie di taglio nazionale. Siamo sulla prima pagina di Repubblica. Clima, blocco di Russia e Iran, questo il titolo di apertura. L'uscita dai combustibili fossili accende lo scontro al summit di Dubai, Mosca e Tehran, contrari all'intesa con l'ok di Riyadh. Svolta della Cina, più vicini agli Stati Uniti sulle rinnovabili. Il ministro Picchetto Fratin sia al nucleare ma no a centrali in Italia. Scontro nel governo sul MES, la spuntano i falchi, rinvio a gennaio. Questi i temi che nelle scorse ore hanno ruotato intorno alla conferenza COP28. Quindi il commento firmato da Enrico Franceschini, la geopolitica dell'ambiente, questo il titolo. E poi ancora per i temi legati al conflitto in Medio Oriente. Netanyahu, gelo con Putin, grave il patto con Hamas. Il capo giadista entrappola nei tunnel di Khan Yunis. Lavrov, 500 anni di dominio occidentale stanno per finire. L'editoriale firmato da Ezio Mauro è intitolato Il nuovo disordine mondiale. Torniamo in taglio alto, siamo però di spalla. Parliamo ancora di politica. Carameloni, scelga fra l'Italia e il suo cerchio magico. E l'articolo firmato da Giuseppe Conte, ospitato questo oggi su Repubblica. De Angelis e Veronesi, giù le mani dal comandante. E poi ancora, destra e sinistra, la scomparsa dei cattolici. Andiamo anche uno sguardo alle notizie di natura culturale e sportiva. Al cinema, Nibale Nero, la Tunisia attacca Netflix. E poi ancora la Coppa NBA all'immortale Lebron Jones. Ci spostiamo ora sulla prima pagina del Corriere della Sera. Attenzioni sul fondo salva stati. E questo il titolo di apertura. La Lega non arriverà in aula. Forza Italia per il sì. Le opposizioni pagliacciate. Queste le varie dichiarazioni. La partita europea, alleati divisi sul MES, fitto media. E oggi riparte il confronto sulla manovra. L'intervista e gli Schlein fanno solo propaganda, ma qui è in gioco l'Italia. E poi parla la russa, difendo congia e anche i diritti. L'articolo di fondo, firmato da Paolo Mieli, scoprirsi adesso pacifisti, sinistra e ucraina. Siamo ancora in taglio alto sul Corriere della Sera. Allarme a Gaza, ridotti alla fame. Dura telefonata a Netanyahu, Putin, l'ONU e la diplomazia. In taglio centrale, la fotonotizia. La sedia vuota per la Nobel. La figlia dichiara Iran contro le donne. A Oslo, il premio per la pace. Annarges Mohamadi, detenuta dal regime. Rogo in ospedale, uccisi dal blackout. Impianti, le accuse. Tivoli, il procuratore, dichiara escluso il dolo. Data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Minori nei tribunali, 110.000 arretrati. In taglio basso, la rubrica Ultimo Banco di Alessandro D'Avenia, intitolata quest'oggi, un'idea di futuro. Ci spostiamo ora sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo sull'edizione nazionale. Quest'oggi non ci sono gli inserti locali. Politica e veleni, titolo di apertura. Bari spunta lo schema civico di De Caro. A Taranto, Lite, Partito Democratico Italia Viva. Affoggia e Stallo Episcopo. L'analisi dal sud. Può partire la riscossa delle aree interne. Sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, ancora Exilva, oggi il sit-in Roma, sindacati convocati per il 20 dicembre. Povertà e diseguaglianze, prima o poi il mondo reagirà. L'intervista parla il medievista Barbero, ieri presente a Bari. E poi ancora l'inchiesta sul consorzio SOA, il GIP, dispone il dissequestro, il tesoro delle miniere di Bauxite nel Grand Canyon della Murgia. E poi ancora Piazza Fontana, 54 anni fa, la strage che avviò la strategia della tensione. Prima di lasciare la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, diamo anche uno sguardo alle notizie sportive. Per il Lecce, vietati passi falsi alle 18.30, la sfida a Empoli. Pilato Scioran, adoro agli europei, l'onda rossa di nuoto. Ci spostiamo ora sulla prima pagina dell'edicola del Sud, PD malato, cura 5 stelle. Questo il titolo di apertura, dedicato dunque alla politica, il dibattito nel capoluogo. L'assessora regionale, Rosa Barone, ospite nella sede DEM di via Re David. In taglio alto, vecchie masserie, nuove economie in Puglia. Lo sviluppo, dopo il boom delle presenze in agriturismo all'Immacolata, si punta alla crescita del settore. Tutti pazzi per profumi e giocattoli, regali di Natale del 2023. Rapidamente diamo anche uno sguardo alla fotonotizia e guerra alle attività abusive. L'operazione è sequestrati in un parcheggio e diverse officine, i controlli dei vigili al rione San Paolo. Il disastro dei consorsi tra buchi di bilancio e stipendi d'oro. E poi ancora il dossier Ambrosetti, acqua, tariff sempre su in Puglia e Basilicata. Ma la rete è un colabrodo. E ora ci spostiamo dalle prime pagine delle edizioni cartacee dei quotidiani di quest'oggi ai siti online. Partiamo dal sito del Corriere del Mezzogiorno. Siamo chiaramente sull'edizione pugliese. La cronaca a Bari colpito da malore durante un bagno in piscina. Muore un 27enne tragedia al circolo sportivo Villa Camilla. Tra sanità e giustizia entra al policlinico e li iniettano sanco infetto. Dopo 40 anni è riconosciuto un maxirisarcimento di 337 mila euro. Nel Foggiano, San Severo, incendiata l'auto di un imprenditore. La reazione in un video sui social, io non mi arrendo, così dichiara. La stangata voli fino a 616 euro dall'insegnante Nicola Tattatore Vito. Le storie di chi non rientrerà a Bari per Natale. La tendenza ancora il Natale. Oltre 6 pugliesi su 10 a caccia di regali nei mercatini. Tutti alla ricerca di prodotti alimentari tipici. Ci spostiamo sul sito della Repubblica. L'edizione di Bari pugliese, meglio. I sindacati in pressing sull'Exilva. Il 20 incontro a Palazzo Chigi chiedono il cambio di gestione. Questa è la notizia in primo piano. E poi la cronaca. Ma allora mentre in piscina muore un 27enne a Bari. E poi l'allarme. Manca il cibo per i poveri a Bari parrocchia in affamno. Anche gli aumenti stanno creando problemi. Verso il voto, il sindaco di Bari, il PD rilancia alla forgia. Se convince le liste civiche di De Caro, possiamo parlarne. L'intervista a Nichi Vendola in scena. Il nostro canto è per Scotellaro. È ancora la politica. Melchiorre tra qualche giorno il nome del centrodestra per il sindaco di Bari. E non è il mio, così puntualizza. Ci spostiamo ora sul sito della Gazzetta del Mezzogiorno. In primo piano le questioni politiche, ma questa volta legate alla città di Taranto. Giunta Melucci al Capolinea e resa dei conti col sindaco. Cinque stelle in Subuglio per l'adesione a Italia Viva. Previsto. Il renziano stellato aveva sostenuto il centrodestra alle urne. Anche in questo caso rapidamente uno sguardo alla cronaca. Barletta, nuovi alberi da piantare per una città più verde. A Taranto, come dicevamo, giunta al Capolinea. A Foggia, ecco, il nuovo arcivescovo ordinato a Roma. A Lecce l'auto si allaga e procura un incidente. Il comune paga. Continuiamo sul sito della Gazzetta del Mezzogiorno. Ci spostiamo però nella sezione dedicata alla Basilicata. Potenza edilizia tra luce e ombre dopo le batoste finalmente segni di ripresa. Parla il presidente Genzano. La pesante tassazione rariale contribuisce a favorire nel settore immobiliare incoerenza tra reddito e patrimonio. Basilicata, dimissioni dal lavoro dal 2018 in aumento del 25%. Sono i dati riportati dall'articolo. E poi ancora un focus sulle festività. Puglia e Basilicata scintillano per il Natale e viene riportata una galleria di immagini. Storie lucane dalla Basilicata alle isole Caimann. La storia di Angelo reinventarsi come immobiliarista. Basilicata sconti in bolletta dell'acqua. Si parte dal prossimo anno. La Basilicata vola a New York e porta con sale presepe itinerante. Ci spostiamo ora sulla pagina web di Foggia Today. La giunta sa da fare. Riunione decisiva per le sorti del campo largo progressista. Il nuovo esecutivo potrebbe lasciare strascichi nella coalizione di centro-sinistra. E poi ancora aumentano i pugliesi a letto con la febbre. Più colpita la fascia 15-64 anni. I dati riportati nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Torniamo in cima. La pagina web di Foggia Today. Don Giorgio Ferretti. Ordinato Vescovo. Il 14 gennaio l'ingresso nell'arcidiocesi di Foggia Bovino. Autodistrutta dalle fiamme. A Sansevero gesti di vigliaccheria. Non mi arrendo. Un imprenditore mostra in un video le condizioni del veicolo dopo l'incendio. Ancora la cronaca di sordi durante la gara Lesina-Torre Maggiore. Partita sospesa in attesa di giudizio. E' accaduto nelle scorse ore al Madre Pietra Stadium di Apricena. Nel campionato di terza categoria. Diamo anche uno sguardo alle notizie riportate sul sito di Brindisi Report. Lo sport in primo piano. L'epica asacee. Vittoria fondamentale nella sfida salvezza contro Varese. Stiamo parlando di basket. Gli uomini di coach Sakota si impongono per 81-86 conquistando la seconda vittoria in campionato. New Basket quasi sempre davanti. Domenica prossima altro match chiave a Sassari. Diamo anche uno sguardo alla principale notizia riportata sul sito Lecce Prima. Presunte irregolarità per migranti. In 23 al banco degli imputati. Uno patteggia. Si è chiusa nei giorni scorsi l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta che nel luglio 2022 sfociò in un arresto e sei misure interdittive, una delle quali colpì anche un finanziere. Ora si tornerà in aula a febbraio. Noi ci fermiamo qui. Vi ringraziamo per l'attenzione e a tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie.